Amore, dimmi. Pronto mamma, mi senti? Pronto? Oh, ciao Laura. Oh, ciao. Senta. Amore? Amore, sono vivi? Mi senti? Oh, amore, dimmi. Ho fatto un provino a Radio Capital. Eh, mi hanno, diciamo, quasi preso. Però ho fatto una cazzata al provino. Però io ho detto che ho lavorato e conoscevo Anna Pettinelli. Però ovviamente io non la conosco, Anna Pettinelli. Quindi, allora, per adesso mi hanno detto, dai, chiamala, così ci parlo, che ci ho lavorato già in passato, così parlo con lei. Ma quindi, amore, io, che, cioè, non sapevo che dirgli. Quindi sei l'unica che, probabilmente, ci sei adesso. E mi devi far finta di essere Anna Pettinelli. Devi fingere di essere lei. Eh, beh, dalla voce si capisce. Ma stai scherzando? Ma come faccio? No, no, no. Eugenia, allora, sei chiamato Anna? Sì, sì, eccola, è Anna. Anna. Ciao, dimmi. Ciao, sono Danny, come stai? Tutto bene, tu? Ciao. Ciao, Anna, come stai? Bene, bene. Tutto bene, grazie. Ma allora anche quest'anno fate l'Academy? Eh, peggio di sì, lo vediamo. C'è tante cose per le feste. Eh, ancora non lo sappiamo. Sì, siamo ancora in fase di organizzazione. Ma in realtà siamo ancora in fase di progettazione, perché sono cose un po' inedite, quindi stiamo un attimo valutando. Ma Rosaria Rinna, ma la senti ancora? Hai visto? È andata a Monte Carlo. Non ti dispiace? No, guarda, non è che... No, sempre bene, sempre bene, però non è un momento... È da parecchio adesso che non la sento. Non molto cose formali. Eh, sì, ma siamo rimaste in buoni rapporti. Eh, adesso un po' particolari, però siamo in tattazione anche lì. Ma adesso che Mediaset ha comprato tutto, voi come reagite a RDS? Eh, ma no, sempre bene, ma vediamo. In questo momento comunque glielo dici pure, pensa bene che non posso parlare. Cioè, devo fuggire, sto scappando che sto andando a fare un servizio. Ma... Adesso sto un secondo in pizzadina. Anna, ma sei tu? E sono un po'... Ma non è Anna lei? Ma tu non mi sembri Anna comunque? No. No, cioè... Sono io? Sì, 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 sì. Ma io ti denuncio, ma chi sei tu? Pronto? No! Ma cavolo, sapevo che ti metti in pittà! Ti chiamiamola così! Ma non è Anna Pettinelli? Virginia, ma che fai? Mi prendi per il c***o? Scusami. Eh? No, no, è Anna Pettinelli. Ma che stai dicendo? Guarda, ti faccio vedere anche il numero. Ma va, ma è tua cugina ed è su radiospeaker.it. È uno scherzo. Buon pesce d'aprile! Amore! Oh, ragazzi, però cavolo, comunque come l'ho gestita? Brava, bravi. Sono stata una grande. Sei una paracula! Che età? Ho fatto tutto. Pronto? Pronto, ma... Ma... Ho fatto tutto. Eh, lo so. Ma no, ma... Anna, è uno scherzo! È fatto tutto bene! Buon primo aprile! È uno scherzo di radiospeaker! Mi possono tutti e due! Non me la fanno! No! Non me la fanno! Che cosa!" Èが è ugutare! Il mondo era ja universo che da racconta aaaat!